E allora, benvenuti, benvenuti nella diretta di oggi di Stampevangelo, un po' in ritardo, un po' più sconclusionata del solito, oggi abbiamo dovuto avere a che fare, diciamo così, con tutte le cose connesse alla malattia di Clara, quindi tampone, orto, loro, faringeo, per lo streptococco, di cui avremo risultati fra un paio d'ore, per cui speriamo che non abbia bisogno di antibiotici, ma insomma abbiamo dovuto affrontare tutta una mattinata particolarmente vivace in gestione di tutto questo, quindi ecco il ritardo di questa puntata di Stampevangelo, mi scuso dunque per le due ore di ritardo causate dunque dalla vita della famiglia, perché il popolo è famiglia e vita di famiglia. Silvia deve andare adesso al corso preparto perché siamo arrivati a quanto? Boh, tre settimane dalla nascita, quanto stai? Più o meno siamo a tre settimane, quindi oggi andiamo a fare, che lezione si va a fare? Allattamento. Allattamento, lezioni di allattamento, che cacchio si farà le lezioni di allattamento? Tiri fuori la zinna e quella si attacca, la lezione mi sembra piuttosto abituale, è abbastanza chiara. Va bene, però dopo la lezione di allattamento c'è anche la lezione di? Ah c'è Clara? Ciao! Ciao, c'è pure Clara! Fai sentire l'ortofarigero, sei stata brava a fare il tampone tu? Sì. Come sei stata? Eh? Hai fatto capricci? No. Perché? Sei una donna coraggiosa, sei una A di? No, però tu non sei coraggioso. Io non sono coraggioso, no, io ho paura di tutte le cose mediche e quindi saluta. Non voglio neanche prendere i fermenti lattici. Ecco, mi fanno schifo pure i fermenti lattici. Svegliamo tutti i segreti di papà di Nolfi di indiretta televisiva, ma sì, che ci frega, eh? No, anche i fermenti lattici al coraggio. Mamma, dopo allattamento invece due ore di? No. Dopo, che c'è? No, la visita con l'anestesista, poi c'è la visita con l'anestesista. No, l'anestesista è una cosa importante, insomma, amica. Oh, guarda, Giancarlo Azzeni ci saluta da Parigi, Don Massimo Lapponi dallo Sri Lanka, la zia Pongi la salutiamo. Ci sono, no, Vito dalla Puglia. Ecco, principessa d'Italia ti ha chiamato, Vito dalla Puglia. Vedi, principessa d'Italia. C'è Ilaria Giurlani, Marione Fifone. No, mi fanno proprio schifo i fermenti lattici. Non è un problema di Fifo, fanno schifo. Super bla proprio. Luca Molinaro ci segue da Tunisi. Guarda qui. Dariella Tascini, il PDF della famiglia. Nicola Di Matteo, il nostro carissimo coordinatore nazionale. Siamo simpaticissimi. Capito, Silvia? Guarda come sei la faccia da simpaticissima. Fai la faccia da simpaticissima. Eccola là. Faccia da simpaticissima. Bene, Stefano dice, bello essere palati e saltare la scuola, eh? Di la verità. Un po' ti piace questa cosa, eh? Ecco qui. Vabbè, insomma, tra un corso preparto, un tampone, orto, l'oro, faringeo, come cavolo si chiama. E capisce guerre, più ritardo di stampa e vangelo. Ecco qua. I capelli di Mario sono sempre più sconvolti. Sono il termometro della condizione familiare. Va bene. Allora, chi fa? Chi saluta per prima? La mamma? Ciao a tutti. Perché deve andare a fare lezione di allattamento. E dopo lezione di allattamento, la visita della? Anestesista. Anestesista. Perché ti fanno anestesia quando partorisci, no? No, però puoi richiedere eventualmente l'epidurale. Puoi richiedere eventualmente l'epidurale. Ma noi non richiediamo niente perché... Io metto le mani. Bravo, perché noi non chiediamo, noi si partorirà con dolore, che ho scritto nella Bibbia. E quindi, amen. Un bacio alla regina di casa, dice Nicola Di Matteo. E alla principessa, capito? La regina è mamma Silvia e la principessa sei tu, capito? A meno un mese fino. Adesso mi ha messo lo fifone, mi hanno detto, capito? Che poi non è fifone, mi fanno schifo. È una cosa diversa. Mi fanno schifo i fermenti lattici. Va bene. Un saluto. Lasciamo libera Silvia di andare al corso di allattamento. Saluta mamma. Benissimo. Bace la mamma. Adesso fate i bravi, mi raccomando, non fate casino. Allora, tu che fai? Ritorni qui. No. No. Ritorna lì. Baci. Baci. Vabbè, sì, sì, non ti preoccupate. Puoi stare qua, puoi stare qua. Saluta. Saluto anche Andrea Schofer, cioè Emiliano Fumaneri, che oggi firma l'editoriale del quotidiano La Croce. Ieri era il pdf di Padova, che firmava con Danilo Bassan. Oggi il pdf del Trentino con Emiliano Fumaneri, che firma uno splendido editoriale sul quotidiano La Croce. Oggi, per chi non avesse letto, il nostro quotidiano si cura attraverso lo scritto di Fumaneri del tema della stupidità di Carlo Cipolla, di una serie di riflessioni che sono estremamente interessanti, in un tempo dove l'intelligenza certamente non regna sovrana. Allora saluto anche Marco Berardi, una bellissima famiglia che è cosa eroica oggi, e davvero lo è. È un casino continuo, ma non ci si diverte così. Noi qua ci chiamiamo famiglia parapiglia, perché è noto che si creano sempre una marea di casini. Pensate che sono arrivate anche le zie dall'Australia. Ci mancava, perché adesso da Sydney, Australia, anzi per esempio, per la precisione, dal Queensland e dai soborghi di Sydney, sono arrivate le due zie australiane, vero? Sono arrivate anche le zie australiane. Aspetta. No, no, boh, aspetta, ferma. Fai l'inquadratura, la fai te adesso. Arrivano due zie dall'Australia, non una, due, che sono le sorelle di nonna Louise, vero? E così conosceremo, anzi lei conoscerà, perché io ci ho vissuto per un po' quando ero piccolo, anche questo segmento di famiglia, che come capite è una famiglia tutta al femminile. Noi abbiamo solo donne. E' vero? E' vero o no? Io volevo un fratellino, perché non mi hai fatto un fratellino? E' perché io sono capace a fare solo femmine, che ti devi dire? Infatti quella che nascerà pare sia una sorellina, anche se io continuo a sperare che pancia punta significhi maschio, chi lo sa, vedremo insomma. Allora, siamo sì, unici come parapiglia, siamo sicuramente unici e come dicevo abbiamo il dono, diciamo così, di essere circondati solo da donne, perché la Clara, tua sorella maggiore che si chiama? Livia. La sorella che sta per nascere che si chiama? Ioanna. Poi ci sta la mamma che si chiama? Silvia. Ci sono le donne che si chiamano? Marina e Luisa. E poi ci stanno le zie che si chiamano? Non lo sai, Elisabetta e Anita si chiamano, sono atterrate, punto. Elisabetta e Anita. Dopo c'è anche la tia Lella, la tia Simonetta. Tutte solo femmine, tutte solo femmine. Anzi, oggi saluto anche la mia unica sorella che è in cielo, perché è morta un po' di tempo fa, è morta proprio il 5 ottobre, la notte tra il 5 e il 6 ottobre, e Zia Ielma che salutiamo, anche unica sorella di papà. Per cui un saluto a Ottavio Deludio, Francesca Carroni Parisi, Roberto Vecchiettini, Anna Del Guerra, buongiorno a Sabrina Bosu del PDF dei Castelli Romani, della provincia di Roma. Allora, circondati da tutte queste donne andiamo, come sempre, a partire dalla lettura del Vangelo. Partiamo sempre dalla lettura del Vangelo, questa è stampa del Vangelo, poi ci addentreremo dentro le questioni che riguardano, parliamo di donne, reddito di maternità assente dalla legge finanziaria, sostegno alla maternità assente dalla legge finanziaria, sostegno alla natalità assente dalla legge finanziaria, insomma, una legge che fa cose diverse da quelle che dovremmo fare noi, se noi andassimo al governo sicuramente faremmo cose diverse. Alberto Mori, voglio salutare Mario, la sua famiglia, un grande uomo che ci ha lasciato, Barbareschi, non ho notizie, non sapevo, ci sono problemi con Barbareschi? Non credo, almeno non ho notizie dirette, fateci sapere. Ci saluto anche da Ravenna, l'amore mio è stato a lungo in quest'estate a Cervia, quindi non lontano da Ravenna. No, ci sono stato anche a Ravenna a vedere i mosaici. Ah, è vero, sei stata a Ravenna a vedere i mosaici, bellissimo, sei andata di notte, vero? Sì. I mosaici notturni sei andata a vedere. E mi facevano anche male le gambe. E ti facevano male le gambe. Sì. Va bene, partiamo dalla lettura del Vangelo del Giorno, come sempre chiediamo un like alla diretta, vero? Perché se ci fate il like, più persone possono ascoltare il Vangelo. Fate la condivisione, se volete, sul vostro profilo della puntata di oggi. E con la condivisione del link potete far arrivare sulla diretta di oggi anche i vostri amici di WhatsApp e i vostri amici di Messenger. Fateglielo sapere, che siamo in onda ora, perché di solito stampa il Vangelo va in onda prima delle nove, mentre oggi siamo in onda a pochi minuti dalle undici nella lettura del Vangelo, che è il Vangelo che piace di più a Clara, vero? Sì. Che il Vangelo è? Quello di Luca. Vangelo di Luca. E allora lo leggiamo insieme. In quel tempo Gesù disse... No, di... Guai a te, Corazin. Guai a te, Bezzaida. Perché se in Tiro e Sidone fossero stati compiuti i miracoli compiuti tra voi, già da tempo si sarebbero convertiti vestendo il sacco e coprendosi di cenere. Perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai innalzata fino al cielo, fino agli inferi sarai precipitata. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Parola del Signore. E' parola del Signore ed è la parola bellissima, eh? Quando diciamo il Vangelo, che è un libro, tutti buoni, no? Sentite che durezza, eh? Cafarnao, sarai innalzata fino al cielo? Fino agli inferi, sarai precipitata. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. La frase del Vangelo è davvero testimonianza lucida, come dice Alberto Mori, che dice cose fondamentali sulla vita della nostra quotidianità. Testimoniare la verità è per noi testimonianza diretta, che è espressione immediata della nostra vita. Altrimenti si fa la fine di Cafarnao. Sarai innalzata fino al cielo? No, fino agli inferi sarai precipitata. Ricordate, il Vangelo non è quel libro New Age e Bonista che ci viene rappresentato. E ci impone dunque il ragionamento sui temi di verità. papà ora deve parlare di alcune cose di leggi finanziarie, non so se ti interessa una piccola mia. Ti interessa? Benissimo. Allora, sono state rese note le cifre della finanziaria, 22 miliardi di euro. Noi diciamo con chiarezza che 22 miliardi di euro dati al reddito improduttivo, cioè il reddito di cittadinanza, dati a pagare un segmento elettorale ovviamente che va a votare, sono i pensionati e i pensionanti. L'idea che si possa andare in pensione con le regole che sono state annunciate oggi, io potrei andare in pensione fra 11 anni. Il tema è giusto? No. Non è giusto perché tra 11 anni papà sarà ancora giovane e attaccare, diciamo così, questo tipo di privilegio, perché diventerà un privilegio rispetto all'età in cui si va in pensione in tutto il mondo, potete andare in pensione a 58-59 anni, è davvero qualcosa che è fuori dalla logica di questi tempi in cui le risorse del nostro paese sono poche. Perché lo si fa? Perché ci sono elezioni fra sette mesi e il governo, i due soggetti principali, il governo, Movimento 5 Stelle e Lega hanno deciso di comprarsi i consensi. Qual è l'alternativa? C'è un'alternativa? Certo che c'è un'alternativa. Noi avremmo voluto investire, sono 22 miliardi, ci avremmo pagato 10 anni di reddito di maternità, avremmo permesso a molti giovani di costruire famiglia, a molti giovani di avere figli, avremmo innalzato il livello di natalità del nostro paese, avremmo colmato il gap tra nati e morti ogni anno, quindi fatto di nascere l'Italia, avremmo costruito le condizioni affinché ci fossero giovani che lavorassero per gli anziani di domani e pagassero le loro pensioni, le strutture di welfare, avremmo costruito con una sola finanziaria che però sarebbe valsa per 10 anni, perché avremmo pagato 10 anni di reddito di maternità invece di pagarne uno di reddito di cittadinanza, avremmo consentito la rinascita di questo paese. Questa è la ragione per cui c'è il popolo e la famiglia in campo, cioè per spiegare come si possono alternativamente spendere le risorse. Questa è una manovra che non ha un euro sulla finanza familiare, non ha un euro del sostegno alla disabilità, non ha un euro nel sostegno alla fiscalità familiare, non c'è il quotiente familiare, anche se a un certo punto ieri sono uscite strane dichiarazioni che dicevano che ci sono soldi, bonus, premi, non c'è niente, tant'è che il ministro Fontana è tragicamente silenzioso, tragicamente silenzioso in queste settimane e proprio ieri non ha detto una parola e non ci sono interviste, non rivendica risultati, quindi evidentemente nella materia finanziaria non c'è nulla di sua competenza e allora dobbiamo comprendere questa cosa. È una finanziaria elettoralistica, molto pesante dal punto di vista economico, la pagheranno i nostri figli, questa è la verità, e le condizioni saranno quelle di avere una nazione sempre meno efficiente dal punto di vista dei conti pubblici e sempre meno giovane perché noi non abbiamo investito in alcun modo sulla natalità e sulla famiglia. È una legge finanziaria assistenziale che assiste l'elezione europea, come dice qui Faustino Cogliandro, in diretta. Sono questi i temi che noi abbiamo voluto affrontare discutendo la finanziaria fin dall'inizio, fin dal momento in cui è stata presentata. Abbiamo visto altre associazioni nel mondo, come dire, family day, applaudire, non si capisce come. Vedete, ci sono stati... io ho incontrato Salvini, lo sapete, in uno studio televisivo abbiamo parlato, io ho posto delle richieste precise di sostegno, appunto ho chiesto il reddito di maternità, Salvini mi ha detto andro al MEF ma non ci sono soldi. Ne sono uscito, per carità non ho un odio verso Salvini, quindi ci siamo incontrati, abbiamo fatto una fotografia, abbiamo pubblicata, ma la richiesta del popolo famiglia resta ferma, è quella la richiesta, se non viene soddisfatta siamo insoddisfatti. C'è stato anche l'incontro invece, guarda caso, subito dopo l'incontro avuto con me, improvvisamente anche Gandolfini e altri portati da Pilon sono andati a incontrare Salvini, escono dall'incontro applaudendo, dicendo bravo il ministro, viva le politiche per la famiglia di questo governo. Quali sono? Quali sono? Non c'è nulla a chiacchiere, ma neanche le mancette hanno messo, non c'è proprio nulla. Fontana è silente perché sa che non c'è un euro. Hanno messo tutto, su Luigi Di Maio, se non fosse stato Luigi Di Maio che ha vinto la lotteria della politica e diventato vicepremier, cioè sullo steward dello stadio San Paolo, con reddito di cittadinanza, è quello il soggetto, no? Ultra trentenne, non lavoratore o con lavoretti saltuari, che andrà a prendere il reddito di cittadinanza. Hanno messo altri soldi su questa follia di mandare la gente in pensione a 59 anni, innalzando poi le minime a 780 euro, quindi hanno preso dei blocchi sociali di riferimento composti da milioni di persone e hanno fatto trasferimento diretto di soldi pubblici. Per gli investimenti produttivi non c'è niente, 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 zero. E l'investimento produttivo per eccellenza è quello sulla famiglia e sui figli. Questa è l'indicazione politica ovviamente che dà il popolo e la famiglia. Questa è la ragion d'essere del nostro movimento politico nello scenario. Noi diciamo che se investi in famiglie e figli riparte l'economia. Qui invece annunciano trionfalmente una crescita all'1,5%, che è ridicola perché una crescita all'1,5% è comunque inferiore alla crescita europea, non si capisce perché questa crescita dovrebbe essere un grande traguardo. E sulla crescita all'1,5% imbastiscono una finanziaria da 22 miliardi di euro che viene pagata come? Facendo un piacere agli evasori, facendo un piacere agli evasori, facendo una cosiddetta pace fiscale, quindi mandando tutta una serie di messaggi valorialmente contrari al bene e alla verità. Veramente mi verrebbe da dire. Tu, Cafarno, sarai innalzata? Questa è una finanziaria da sprofondare negli inferi, questa è la verità, purtroppo, perché è una finanziaria completamente elettoralistica. Questa è una finanziaria completamente elettorale finalizzata solo al voto del 26 maggio 2019, con il primo reggio di cittadinanza che si darà a fine marzo e con l'accesso in pensione ai 59 anni, che si farà da febbraio, come ha detto Salvini. Alla famiglia non arriva nulla. Perché il mondo pro-family applaude la Lega? Perché? Perché, lo dico all'amico Coghe, all'amico Gandolfini, all'amico Tony Brandi, non vanno dato niente. È il governo che ha fatto la triptorelina, è il governo che lascia i negozi di Cannabis Light. Perché c'è l'applauso invece della richiesta? Io posso capire, posso capire che voi siate come dire, simpatizzanti, che pillone è leghista e quindi bisogna andare a fare i simpatizzanti. Ma perché non utilizzate questo per porre delle richieste sul tavolo del governo? Non per applaudire qualcosa che non c'è. L'applauso al governo, il comunicato del Comitato di difendiamo i nostri figli è folle, è senza senso, è un applauso, attività di governo che non ci sono, non c'è stata un'attività in sei mesi che sia oggettivamente al punto di vista dei provvedimenti normativi a favore della famiglia. Anzi, sono stati spesi una valanga di quattrini privilegiando tutti i soggetti tranne la famiglia, anzi prendendo in giro la famiglia. Perché a un certo punto sono spuntate dichiarazioni dicendo abbiamo fatto il quotiente familiare. E come l'avete fatto? Il quotiente familiare costa 12 miliardi di euro. Come l'avete fatto? Come l'avete fatto il finanziamento alla maternità? Su, non c'è nulla, diciamoci le cose come stanno. Le solite mancette che ci sono sempre state in ogni governo, ogni governo ha fatto le sue operazioni di mancetta, ma l'investimento strutturale sulla famiglia che vi sarebbe costato un decimo di questa follia che avete fatto per prendere i voti alle europee, non è stato compiuto. E quindi questa è una vera vergogna, come dice Nicola Di Matteo. Che fratto ci vogliono spacciare come grande vittoria, anzi con gli amici di Pilon che vanno lì a dire che il Family Day è a favore di questo tipo di finanziaria. È una roba folle, si va dalla politica, ho incontrato anch'io Salvini, non ho problemi a incontrare Salvini e a fotografarmi insieme a Salvini, ma non per avere la foto con Salvini, di cui non me ne faccio niente, ma per dire a Salvini quali sono le richieste che il popolo e la famiglia fa. Poi Salvini mi prende in giro perché mi dice, li vado a prendere al MEF ma i soldi non ci sono, so bene cosa significa, so bene non gli intendo che mi interessa dal punto di vista politico reale quello che gli ho chiesto, ma intanto lui c'ha quelli del Family Day che gli battono le mani comunque, il problema è che non sono quelli del Family Day, sono tre associazioni cine che non fanno un'iniziativa da mesi e che se la facessero non riuscirebbero a riempire una saletta di un cinema, questa è la verità, questa è la verità vera. La rappresentanza vera di ciò che era il Family Day è nei 220.000 che hanno votato il popolo della famiglia, è l'unico popolo che si ritrova, che si incontra, che fa iniziative ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Gli altri vanno, come dice bene Annicchino, a se vanno strusciare, se vanno strusciare il potere. Eh ma con questo non si fa nulla, con questo non si fa nulla, non si arriva a nulla. È un applauso tra l'altro sprecato, veramente, un applauso da chi è ambituato solo a inginocchiarsi davanti al ministro dell'interno di turno, che sia Alfano sia Salvini sempre inginocchio davanti al ministro dell'interno di turno stanno e questo è un errore strutturale nei rapporti con la politica. Nei rapporti con la politica ci si va, mi in termini di richiesta, perché altrimenti non si va a finire da nessuna parte. Si sta in ginocchio davanti al potente, lo si applaude e il potente sa che avrà il tuo applauso sia se ti dà, sia se non ti dà e quindi non ti dà. È molto semplice, è tutto molto semplice. Non c'è, è una regola aurea della politica. Se tu richiedi in maniera molto dura, in maniera in stanze forti, portando numeri che hanno un suo significato, allora qualcosa puoi ottenere. Se ti metti in ginocchi e applaudi chiunque sia seduto al Viminale, sia Alfano o sia Salvini, o chiunque sia seduto al ministro della famiglia, sia Costa o sia Fontana, allora loro sanno che tu sei quello lì che sta comunque in ginocchio davanti al potente. Quindi non ti cura, non ha interesse a gestire ciò che rappresenti o dici di rappresentare. La rappresentanza si ottiene nella battaglia, nel conflitto e noi questo conflitto siamo interessati a attivarlo anche ovviamente in un contesto di rispetto perché non c'è problema. Noi rispettiamo sicuramente tutti, rispettiamo Matteo Salvini, rispettiamo il Movimento 5 Stelle, ma siamo altra cosa, siamo un soggetto alternativo che concorre alla costruzione di una dimensione di consenso su una piattaforma che vuole investimenti seri e strutturati a favore della famiglia. Perché? Non perché siamo i padri di famiglia, ma perché sappiamo che solo passando attraverso questo tipo di investimento riparte l'Italia e salviamo l'Italia da quella tragedia che la rende purtroppo una terra desolata e questa tragedia si chiama denatalità. Se tu continui a perdere 300.000 persone all'anno, lo abbiamo messo in prima pagina sulla croce, un rapporto che verrà presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 ottobre, noi l'abbiamo messo in prima pagina sulla croce in anteprima, verrà presentato la settimana prossima alla Presidenza del Consiglio, ebbene, quel rapporto dice che prima che io abbia 80 anni, cioè quando io sarò un anziano, l'Italia va perso il 17% della sua popolazione. Un numero devastante, un italiano su 5. Nessuna guerra, nessuna pestilenza è riuscita a fare questo tipo di risultato. Leggete quello che abbiamo scritto sulla croce. Nessuna guerra, nessuna pestilenza. ci sono riuscite le politiche contro la famiglia, contro la vita, le politiche antipopolari riusciranno a raggiungere questo traguardo. Uno dice, prima che io avrò 80 anni, non è che mancano tanto tempo, prima del 2050, 2050 è qui, tra 30 anni. Tra 30 anni noi avremo un esito, dal punto di vista della moria della popolazione italiana, del 17% che due guerre mondiali consecutive non sono riuscite ad ottenere. Due guerre mondiali consecutive non sono riuscite ad ottenere quello che abbiamo invece ottenuto drammaticamente con questa cultura dell'aborto, con questa cultura della cancellazione della cultura della vita, con questa cultura contro la maternità e contro la famiglia. Qui poteva far esserci un cambio di passo e invece del cambio di passo abbiamo dato i soldi alle spese etiche di Luigi Di Maio e i soldi alla campagna elettorale di Matteo Salvini pagata con la Fiscalità Generale. A me sembra una follia, forse sono solo io a essere così preoccupato, spero di no, spero che siamo in tanti. Se le cose che ho detto vi preoccupano fate un like a questa diretta, condividetela con tutti coloro che possono essere interessati a seguirla. Inviate il link ai vostri amici perché non c'è niente di più tragico di quello che sto dicendo. Purtroppo certificato dai numeri, purtroppo quel rapporto che vedrete presentato fra qualche giorno alla Presidenza del Consiglio il 10 ottobre lo abbiamo anticipato noi sulla Croce in prima pagina ma solo noi l'abbiamo messo in prima pagina perché solo a noi interessa evidentemente leggere quei dati e rimanere stupefatti, davvero straordinariamente stupefatti dalla povertà di queste proposte anche di questo governo come dei governi che lo hanno preceduto. Anna del Guerra dice giustamente mandano per posta la pubblicità di Ella One a nostre spese. Esattamente così. Cara Anna noi abbiamo una tessera che dobbiamo mandarti che da qualche settimana non riesce a raggiungerti quindi se in privato mi mandi l'indirizzo perché quello che mi ha passato Nicola evidentemente non va bene però se in privato mi chatti con il tuo indirizzo dove vuoi ricevere la tessera noi te la mandiamo volentieri perché stai ritornando indietro tutte le volte quindi mandami per favore direttamente in chat, non qua in chat, in privato l'indirizzo dove vuoi ricevere la testa del popolo della famiglia e con l'occasione invito tutti a iscriversi al popolo della famiglia e abbonarsi al quotidiano La Croce, una lettura sempre utile www.lagrocecodigliana.it slash abbonarsi trattino ora per ottenere diciamo quelle informazioni che il resto dell'informazione italiana non vi darà mai. Lo ripeto c'è un rapporto scritto molto preciso scientifico che dice che ormai siamo destinati ad avere nel 2050 la depauperazione del 17% della nostra popolazione ricordo che un trentennio ci separa dal 2050 la prima guerra mondiale cominciò nel 1915 e finì nel 1945 la seconda guerra mondiale un trentennio ebbene due guerre mondiali con occupazione nazista con tutto quello che c'è stato non hanno comportato un analogo abbassamento della popolazione quanto invece sta comportando questa politica antifamilista contro la vita della cultura dell'aborto della cultura dell'eutanasia nel nostro paese. Ragioniamo su questo se non comprendiamo che questo tipo di condizione è peggiore persino delle peggiori guerre le peggiori pestilenze le peggiori eventi bellici io allargo le braccia e dico ragazzi evidentemente stiamo veramente predicando nel deserto ma anche questa finanziaria ha deciso di non fare nulla per invertire questa tendenza che è la tendenza cruciale su cui si schianterà la nostra vecchiaia già la nostra vecchiaia si schianterà sull'impossibilità in assenza di figli di avere le strutture del welfare della previdenza che sostengano la nostra vecchiaia saremo tutti condotti al macero dell'eutanasia e vedrete che andrà così se non invertiamo la rotta per questo siamo in campo per questo il popolo della famiglia lavora grida fa stampa evangelo si mostra con le sue debolezze con i suoi capelli scarmigliati con stefano ieri in trasmissione vestito orrendamente da me diciamoci la verità vittoria accanto a lei a lui lo rendeva rendeva l'immagine gradevole grazie alla bellezza di vittoria per questo facciamo dentro i fatti con danino lonardi per questo facciamo tutte le nostre iniziative in giro per l'italia per questo ci vediamo in assemblea nazionale il 17 di ottobre per questo questo movimento continua non essersi inginocchiato davanti ai potenti ma a portare avanti una piattaforma politica alternativa perché se non costruiamo una piattaforma politica alternativa noi rischiamo seriamente il tracollo del nostro paese e noi cercamente questo non lo vogliamo vogliamo piuttosto costruire le condizioni per una rinascita del paese perché il paese rinasca deve partire dalla famiglia e dai figli senza investire su famiglia e figli non ci sono alcune possibilità per far ripartire l'italia tutti gli indicatori dicono che le nazioni che hanno una crescita per esempio l'ungheria 4,2 per cento ce l'hanno perché hanno un numero di matrimoni che crescono ogni anno il numero di bambini che nascono che crescono ogni anno e sono nettamente superiori ai ai morti pur rinunciando ai flussi migratori penso all'ungheria appunto 4,2 per cento di crescita del pil noi con tutte queste promesse che fanno spendendo 22 miliardi di euro abbiamo una crescita annunciata dal governo all'1,5 per cento come fosse straordinaria cioè sotto la media europea io non lo so i numeri stanno lì tutti possono giudicarli se questi numeri vi soddisfano io non posso fare nulla se non spiegarvi che questi numeri conducono dritti dritti al disastro e non c'è niente da fare perché come dice anche Emiliano Fumanieri in compenso la demografia dei paesi africani è galoppante non si può pensare di chiudere in una bolla un miliardo e mezzo di persone che esondano dal continente africano questo deve essere chiaro a tutti o capiamo o moriamo io l'ho scritto in un libro un po di tempo fa così come scrissi voglio la mamma prima della legge Cirinna prima che accadesse tutto quello dicendo attenzione se non agiamo ci saranno quelle leggi io poi di fare la Cassandra non ho particolare voglia lotto politicamente per quello che posso insieme a voi insieme ai fratelli e sorelle il popolo della famiglia sappiate però che la vostra battaglia è decisiva perché ancora una volta ve lo devo dire se non fate voi questa battaglia non la farà nessuno e dunque per noi è vitale tutta la mobilitazione altrimenti si va tutti in ginocchio da Salvini si dice quanto è bravo si fa il comunicato quanto è bella questa finanziaria a favore della famiglia poi magari se la leggono si accorgono che sono stati presi in giro per l'annesima volta come da Alfano e da Costa stavolta da Salvini e da Fontana almeno Fontana sta zitto non dice una parola e questo dovrebbe spiegare tanto del fatto che per la famiglia non c'è niente altrimenti il ministro della famiglia si vanterebbe come diciamo così dei risultati raggiunti in finanziaria sui giornali invece tace perché non può che tacere e questo è ovvio il grande ministro Fontana che doveva garantirci e garantire i nostri valori io spero sia chiaro il meccanismo perché se a tutti voi è chiaro il meccanismo capite ancora meglio la fregatura rappresentata da chi si affida alla verità alla lega a soggetti che non sono interessati alle nostre questioni valoriali ma usano le nostre questioni valoriali per fare denaro e potere le questioni valoriali hanno come conseguenza dei comportamenti politici comportamenti politici che non si sono verificati e non si stanno verificando e chi nel popo e famigli dei va a fare l'applauso a questa finanziaria davvero non ha capito nulla di quello che bisogna fare per provare a riportare il l'epicentro diciamo così dell'attenzione politica sulla famiglia e sui figli saluto piero chiappano saluto vicente schiano da ischia saluto meri rossi da padova saluto debora tonnini giornalista di vatican news che ci segue qui in diretta l'amore mio ha fatto appena adesso una bella tossita di quelle è di quelle catarrose vero vabbè ma adesso a luna ci diranno com'è il lesito del tampone se è positivo lo streptococco o no speriamo di no così evitiamo l'antibiotico perché l'ho già fatta ad agosto l'antibiotico un altro antibiotico non sarebbe carinissimo diciamo così e dunque ha un cattivo sapore ha un cattivo sapore io da piccolo prendevo il backtrim che era un orrendo sapore sapeva di calzino puzzolente appena uscito dalla scarpa di ginnastica il backtrim sciroppo lo sciroppo backtrim una cosa vitamina b non so perché era buona la vitamina b che si chiama betotal non è buona la vitamina b è buono il betotal sciroppo era buonissimo vedi anche la bongi prendeva il backtrim e dice che schifo tutta la nostra infanzia di noi che siamo vecchietti è stata cresciuta con farmaci schifosissimi in cui il backtrim c'è l'antibiotico che ci davano obbligatoriamente sotto influenza era davvero orrendo va bene io vi ringrazio molto per l'attenzione alla puntata di oggi che chiude la settimana di stampe vangelo speriamo di avervi illustrato i temi della manovra finanziaria in maniera che sia tutto più comprensibile davvero il tema però è fondamentale intanto marco mi chiede se il ddl pillone lo criticherò lo criticherò molto il ddl pillone l'ho già criticato perché sono convinto che non esista la bigenitorialità perfetta noi l'abbiamo teorizzato al femmine dei che non esiste genitore 1 e genitore 2 la bigenitorialità perfetta non esiste esiste ruolo materno e ruolo paterno è determinante sia clara tolgo la mamma per il 50 per cento del tempo clara mi ammazza penso vero perché la mamma è sempre la mamma vero e noi dobbiamo stare con la mamma e quindi è fondamentale il ruolo materno e chi non lo capisce da retta a le questioni dei lobby dei padri separati fa un errore grave anche quel ddl è un errore grave non fa gli interessi del minore basta parlare con i minori e lo si capisce minore laura terrana ti fa arrivare i baci di pietro e giosuè i figli di nicola e laura ti salutano e allora salutiamo anche loro noi speriamo di rimetterci in piedi per andare a scuola lunedì e così tu non vedrai però stampa il vangelo lunedì non potrai essere protagonista uffa detto gli piace fare stampa il vangelo quindi grazie a voi che avete seguito questa puntata il ddl pillon non difende i bambini dice buongiluppi io sono d'accordo con lei sono d'accordo con le tante mamme che mi hanno spiegato perché quel ddl tante mamme cattoliche quel ddl è davvero un disastro è l'ennesimo risultato di un approccio politicista alle questioni che invece devono riguardare le persone dunque devono partire dal rapporto e dalla questione antropologica se non partiamo dalla questione antropologica non comprendiamo ciò che occorre fare per salvare questo paese noi diciamo sempre che il popolo la famiglia in campo non per cambiare l'italia ma per salvarla grazie davvero anche a silvia lucchetti a saimir a stefania parma monaco monica sismondini angelo cicirelli ai tanti che si sono connessi con noi durante questa puntata di stampa il vangelo che chiude la settimana il stampa il vangelo noi ci ritroviamo lunedì con il diciamo la programmazione ordinaria sempre prima delle nove ci scusiamo per essere arrivati in ritardo ma abbiamo dato le spiegazioni dovute alle emergenze familiari di questa bella piccolina qui che adesso guarirà perché papà suo adesso la fa guarire a forza di risate a forza di risate il risus è uno dei diciamo dei medicamenti più efficaci di cui è capace questo papone e allora grazie a aia devi sputare vai 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 eccoci qua col tanto catarro aspetta prendi prendi un fogliettino ecco le emergenze familiari che oggi hanno diciamo così turbato la mattinata fatto benissimo grazie a tutti davvero per questa puntata qui c'è tanto catarro tanto catarro anche oggi vediamo se papà riesce a ammalarsi pure lui è molto no probabile con tutta questa tarantella in mattinata avete visto anche silvia all'inizio della puntata adesso è in corso preparto perché nel frattempo qui la famiglia parapiglia è in totale parapiglia quindi vi saluta anche silvia saluto maria raffaella saluto la zia poggi c'è la lucchetti che ci dice siamo dei dolciotti c'è giacomo collotto va bene insomma siamo tanti grazie a tutti se volete per favore un like alla diretta se nonostante la confusione vi è piaciuta una condivisione sul vostro profilo per spiegare alcune questioni di politica economica che abbiamo spiegato comunque pur nella confusione in questo live di stampa evangelo ci saluta andrew clemens dall'australia che bello diciamo che domani arrivano anzi sono già arrivate ma arriveranno domani qui a casa le zie d'austre dell'australia quindi ancora donne e svariate donne diciamo anche ancora in questa casa per fortuna domani non c'è stampa evangelo vi faccio vedere una donna peluccia ecco adesso arriva pure la donna peluccia vedo che roma forse è meglio che chiudo la diretta prima della donna peluccia grazie andrea fratini a maria luisa gianuizzi a stefano ovviamente giuseppe martini partina selvaggi ecco qua c'è anche lei abbiamo tutto il cucuzzaro come si dice grazie a carmen benevento edoardo troiani patizia selvaggi laria giurlani che dice senza stampa evangelo siamo persi speriamo che questa puntata nonostante la confusione abbia fatto trasferire quello che era necessario comprendere dei numeri definitivi della manovra economica e dell'atteggiamento che secondo noi del popolo famiglia occorre avere rispetto al governo per ottenere qualcosa a favore della famiglia non andando in giro a inginocchiarsi davanti al potente di turni a fare i comunicati che esaltano un'attività a favore della famiglia e questo governo semplicemente non ha fatto va bene un saluto anche a tutti coloro che salutano in ritardo come maurizio serafini silvia ti vuole a tutte le puntate di stampa evangelo facciamo anche no se no diventa un casino un saluto a piero chiappano che è una bambina come te bellissima una figlia davvero davvero bella don massimo lappone dice l'italia ha bisogno di tante clara e infatti adesso arriva pure joanna vero così ne abbiamo un'altra poi abbiamo pure limia e noi abbiamo fatto insomma di figlia di papà diciamo ok grazie a tutti tante figlie di papà eccoci con ti vuoi far vedere va bene allora fatti vedere adesso saluta tutti con un grande ciao buon fine settimana santa domenica a tutti mi raccomando ci vediamo a messa con chi viene alla chiesa nuova da padre maurizio che poi io ci vado questa piccolina vi fa anche l'inizio del catechismo tra l'altro con padre maurizio a partire da mercoledì un abbraccio a tutti un bacio e grazie da maria di nolfi e dalla famiglia paraviglia ovviamente da clara in primis ciao 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 a tutti